Sono Giuseppe, arrivo dalla provincia di Pavia e ho conosciuto la clinica del dottor Palmas un po' attraverso la pubblicità dei cartelloni che si trovano per strada. Avevo dei problemi legati ai denti un po' per tutta una serie di cose, a quel punto lì ho deciso di trovare una soluzione e quella che mi è sembrata migliore fra quelle che avevo visto era proprio quella del dottor Palmas. Io sono contento di aver fatto questa cosa e sono felice di avere questo sorriso, di avere adesso i miei denti belli, sono proprio contento. Sono andato lì perché ho avuto fiducia in questa struttura e devo dire che confermo che mi sono trovato bene, ecco, mi è piaciuto. Mi è piaciuto e ho trovato un'equip veramente brava, veramente professionali e sono felice di questo, insomma. Adesso ho la mia dimostrazione anche per chi mi diceva, no, ma guarda, forse è meglio da un'altra parte che invece no, sono contento di aver fatto questa scelta.